musica 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 Dani che succede? guarda che panza che ho fatto mi sono ingrazzato come una bestia e certo non fai mai movimento sei sempre fermo seduto l'unico rimedi è riprendere a correre ma che correre ormai sono arrivato appunto che non ricordo ma vedi che c'è sempre speranza andiamo a correre vuoi mettere la figa come vede quando avrai un fisico scolpito come quello di Rocky 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 si 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 a posto mi hai convinto andiamo musica 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 Il cacchio è finito, quello sono due ore, lì è fuori a correre, porca miseria, si è perso, ah ecco, guarda, guarda. Dani, Dani, quanto hai fatto? 33 km di corsa! Come 33? Non hai nessun dolore? Sono fortissimo, no, no, nessun dolore. L'unica cosa, leggero sudore, ma proprio leggerissimo. Comunque, per arrivare alla mia generazione, ne devi passare, bello mio, ne devi passare. Ma... 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 Tre ore dopo, ebbe qualche leggerissima difficoltà di movimento. Pira, aiutami, che non arriva la mani... Dai, ne puoi torno a dare! A? No, 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 non lo so, no, no... Portami tu, uè, portami! E mi da se, per anni, ci sono le campioniche. Grazie per la visione!